Roberto Pella, membro del Comitato di Regioni, Sindaco di Valdengo. Lo sport è fondamentale, perché lo sport è integrazione, perché lo sport non ha bisogno di barriere linguistiche, perché lo sport è quello che rende sani i cittadini con il proprio corpo e con la propria mente e soprattutto perché lo sport integra. Su questo abbiamo richiesto alla Commissione un forte investimento su quello che è l'Erasmus+, perché l'Erasmus+, significa in qualche modo migliorare l'integrazione e soprattutto diffonderla su tutti i 28 Paesi, rendendo i giovani e i meno giovani protagonista di quella che deve essere una nuova stagione sportiva europea. Ci sono tantissime iniziative, a partire dalla mia regione, con un grande evento calcistico dove 10 comunità da tutta Europa arrivano nel fare questo torneo che dura una settimana, dove i giovani si conoscono, dove nascono anche degli amori, delle simpatie e soprattutto quest'anno abbiamo proposto anche delle squadre su quello che è il fenomeno dell'immigrazione che colpisce fortemente l'Italia e io credo che quando si ha una palla non servono confini, non c'è divisione di ceti, non c'è divisione politica, non c'è neanche divisione sociale.